Lo scontro diretto tra Roccella e Nola sorride alla formazione campana e sta tanto di beffa per quella amaranto. Gli Ionici in nove per buona parte del secondo tempo per l'ingenuità di Coris e il doppio giallo di Coluccio crollano nell'extra time sotto i colpi di Langella e Giliberti dopo l'iniziale vantaggio siglato da Malerba su calcio di rigore al diciottesimo del secondo tempo. Una partita davvero molto strana, non priva di episodi e di polemiche con un post-gara davvero infuocato per un Roccella stoico e capace di reggere l'urto fino ai minuti conclusivi del match. Alla fine però i miracoli di scuffia e il muro eretto dai difensori di casa non bastano ad evitare il secondo stop consecutivo per la formazione amaranto. Tante le novità nell'undici scelto da Galatis, qualificato Mbaie al suo posto non gioca Sangaré ma Perkovic in attacco accanto a Coris e Leveque. 5-4-1 invece per quanto riguarda la formazione campana con Maggio unica punta e il grande ex Alessio Faella fischiatissimo durante l'incontro. La prima occasione è di Marc Amaranto, illusione del gol con Perkovic che calcia forte con il destro colpendo l'esterno della rete e il tirante dietro la porta difesa da Anatrella. Passano all'incirca 20 minuti e c'è ancora un'altra grande occasione per il Roccella. Traversone di prima di Malerba dalla sinistra sul secondo palo sbuca Pascuzzi che di testa non trova la porta di pochissimo. Roccella molto offensivo ma anche poco preciso negli ultimi metri. Ne approfitta il Nola al trentesimo con Faella che mette il turbo a sinistra ma scuffia. Copre bene il primo palo sul tiro velenoso dell'esterno classe 97. Al quarantunesimo ancora un'occasione per il Roccella. Una punizione tagliata di Leveque sul secondo palo. Bucano tutti Coluccio da pochissimi passi però non riesce a trovare il più facile dei gol. Al quarantacinquesimo ci prova Langella da fuori con una palla che è sibila di poco. Il palo alla sinistra difesa da scuffia e al quarantacinquesimo ancora Nola con il Roccella sorpreso sulla percussione di Serrano che trova maggio in aria. Il centravanti bianconero si gira bene su Coluccio. Calcio a botta sicura ma scuffia risponde alla grande bloccando in due tempi il pallone. Nel secondo tempo dopo otto minuti il Roccella ci prova subito con un tiro cross di Leveque con il destro. Palla che accarezza il palo e termina sul fondo. Arriviamo poi al decimo del secondo tempo per l'episodio chiave del match. Coris commette fallo a palla lontana. Se ne accorge il direttore di gara. Il rosso diretto per l'ex attaccante di Siderno e Interregge. Roccella costretto a giocare il secondo tempo in dieci. Ma al diciottesimo c'è subito un'occasione d'oro per la formazione di casa con una grandissima serpentina in aria di Perkovic. Contatto con Mileto. Nessun dubbio per il direttore di gara. E calcio di rigore dal dischetto Malerba spiazza Natrella per l'1-0 del Roccella. Arriviamo al ventisettesimo. Un altro episodio chiave. Coluccio che era già stato ammonito nel primo tempo. Stende un avversario a limite d'aria con un intervento poco ortodosso. Se ne accorge il direttore di gara Bocchini che estrae il secondo giallo. E Roccella che è costretto a difendere con le unghie e con i denti questo vantaggio in nove uomini. Al quarantaduesimo un miracolo di scuffia. Tiene vivo il Roccella sul tiro a botta sicura di Langella. Ma è un miracolo vano perché passano appena due minuti e arriva il colpo di testa vincente di Serrano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Perpetta l'incornata del numero 7 del Nola. Al quarantottesimo la beffa finale per il Roccella. Dusso calcia in porta. Scuffia respinge e da pochi passi Giliberti segna il più facile dei tapin. 1-2. Una beffa nel finale per il Roccella.